come l'alba è, sei fresca come l'aria, pam pam pam, diventi rossa se qualcuno si guarda, se i tuoi problemi, i tuoi pensieri, ti svesti, ti svesti, ti vesti svogliatamente e non menti. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ma sabatica, non pifan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Dove in questo video parlerò del fatto che a causa della recente di Thailandia, a passare il Capodanno a casa. Naturalmente, come sempre, il link all'articolo lo trovate sotto in descrizione. Inoltre, voglio anche invitarvi, se volete, a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, sempre se volete, a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social. Che cosa buona e giusta. E poi, il periodo di Natale. Ma buongiorno, Michi, ma come la va, come la va. Amici, ne approfitto della diretta per dirti. Più tardi ti chiamo. Devo comunicarti una cosa, devo chiederti una cortesia. Più tardi, dopo la diretta. Do verso le nove, dai, dai. Ok. Ho detto, scusate ragazzi, approfitto della diretta per farmi anche una manica di fatti miei. Allora, gli occhiali. Gli occhiali. Ok. Togliamo un po' di pelucchi. Ottimo, ottimo, Michi. Allora, forse un po', un po', un po'. Il periodo del 19, con il numero di nuovi casi che continua ad aumentare... No, 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 ragazzi, no. Ma perché mi fa sti scherzi internet? Ma perché? Ok, allora, con il numero di nuovi casi che continua ad aumentare in diverse province, tra cui Bangkok, il primo ministro ha detto che le persone che vogliono viaggiare sono... Un numero limitato di persone, ha detto, sulla sua pagina Facebook ufficiale, Pryo CianoCiap. Ovviamente, è una pagina Facebook con il nome e cognome, un po' come quasi tutti. No, dai, ragazzi. No. Ancora. Quindi non ha partecipato, non ha risposto direttamente alle domande dei media, come fa di solito, ma ha invece pubblicato un videoclip che aveva registrato alla Government House. È ora disponibile sul suo web. Quindi ha pubblicato questo video. Ovviamente sul so si... Il primo... Prendere il panico è ad essere momento, ma ad ergi non necessari, e le visite a luoghi affollati dovrebbero essere evitati. D'altro canto, se bisogna arrginare la nuova diffusione di onda, questa nuovaondata, insomma bisogna un po' stringere la cinghia. Ha anche sottolineato che le persone dovrebbero prestare indietati, il primo ministro ha sottolineato che ogni provincia ha i propri protocolli di controllo Covid-19 specifici e possono includere misure di screening rigorose che potrebbero essere frustranti per i visitatori. Ha anche invitato tutti a scansionare il codice qr di Taichana per fare il check-in ogni volta che visitano un luogo pubblico. Questo accenno tanto tempo fa il Taichana è un'app che prende ogni volta che tu accedi in qualche luogo qualche negozio dovunque tu accedi acquisisci il qr code in maniera tale che vieni tracciato tutti gli spostamenti che fai sanno quando sei entrato e quando sei uscito. Se qualcuno che è entrato insieme a te e il risultato poi in seguito è positivo ti vengono a cercare e dice guarda quel giorno là tu sei entrato là e c'era una persona positiva. Quindi rintracciano tutti i clienti di quell'attività in quella fascia d'orario quando è entrato il tizio e li bloccano, gli dicono di sottoporsi a esami. Una misura sviluppata dal governo per intracciare coloro che sono appunto il Taichana che sono sospettati di essere entrati in contatto con casi di Covid-19 confermati. Sull'argomento più in alto nella mente delle persone. Il generale Priut non ha confermato né respinto la possibilità che l'intero paese abbia bisogno di un nuovo blocco nazionale del Covid-19 dopo le prossime vacanze. Quindi non ha né confermato né smentito che probabilmente ci sarà un nuovo blocco, un nuovo lockdown del paese. Ha detto che la decisione dipenderà in gran parte da come si evolverà la situazione, ma ha detto che personalmente riteneva improbabile che sarebbe diventato così grave che sarebbe stato nuovamente necessario un blocco nazionale. Il portavoce del centro del Covid-19, Tawisilpwisa Nuyotin, ha parlato delle diverse misure di controllo del Covid-19 in tutto il paese e ha affermato che dipendono dalla gravità della situazione in ciascun'area. A Samutsakon, ad esempio, è già stato imposto il coprifuoco, ha detto, aggiungendo che a partire da martedì, 45 province, da martedì cioè ieri, avevano registrato nuovi casi di Covid-19, insomma si sta diffondendo. Quello che non è successo a marzo, febbraio, marzo e aprile, si sta verificando adesso. Le festività di Capodanno sono state vietate nelle province più a rischio di Samutsakon e Rayong. Un comitato, ci siamo ragazzi, il neurone si è aggrippato. Un comitato che supervisiona le operazioni di emergenza medica martedì ha avvertito le persone di non viaggiare questo fine settimana e invece di festeggiare a casa. Kiatipum Wongrajit, segretario permanente del Ministero della Sanità pubblica, che ha preseduto la riunione, ha detto che la riunione di quattro ore aveva deciso che non si potevano tenere riunioni di Capodanno a Samutsakon e Rayong. Gli eventi potrebbero essere organizzati in aria a basso rischio, ma solo su piccola scala. Gli eventi, con più di tantini ragazzi, il dottor Tawis ha effettuato un'ulteriore valutazione della conformità delle persone alle misure di contenimento. Le regole potrebbero essere allentate se la conformità è alta o rafforzate se il Consiglio non è stato ascoltato. Il vice primo ministro Wissanu Krengam ha detto che la prossima valutazione sarà probabilmente condotta il 3-4 gennaio, quindi dopo il Capodanno. Il numero di nuovi casi confermati di Covid-19, dai! Quindi con Bangkok che è diventata un'altra provincia. No, no, non si può andare avanti così ragazzi. Si blocca in continuazione, ma perché? Ma poi il mio provider mi blocca, dice perché? Perché tutto questo upload di dati? Perché? Cosa fai con l'upload di dati? Cosa devi uploadare? Non è che fai soldi uploadando dati. Si, sto facendo i miei due centesimi. Va bene, si. Quindi a Rayong il numero di nuove infezioni è salito a 148 con 56 nuovi casi registrati in un giorno, spingendo a imporre misure massime di controllo su 5 dei 7 distretti. Cioè, Moang sarebbe la città propria di Rayong. Bancay e Nikon Pattana, la maggior parte del cibo d'asporto che possono rimanere aperti. Adesso non è stata informata. La Matayom Taxi School, nel distretto di Moang, proprio a Rayong centro, Rayong City, è stata chiusa a tempo indefinito dopo che una studentessa ha contratto il covid-19 dei suoi genitori. 150 per cui i 30 anni devono essere testati per vedere se hanno il virus. Perché giustamente poi è andata a scuola, è stata con altri studenti, con i professori. E quindi non solo gli studenti e professori, ma poi anche le famiglie di questi studenti e professori. Poi se le famiglie avevano altri figli che andavano in altre scuole, bisogna andare a vedere nelle altre scuole. Ragazzi, è un casino, è un casino, è un casino. Va bene, dai. Cocomacrap per avermi seguito fino a questo momento. Volevo ricordarvi e invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al canale e cliccare sulla canella per stare sempre a giornali sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social. Inoltre, volevo chiedervi scusa per la connessione internet difettosa. Non lo so, ragazzi, ma non lo so. Comunque, vabbè, casomai cercherò di mediare con il cellulare. Una volta farò con la saponetta e una volta farò con il cellulare, così. Cerchiamo di evitare che, cerchiamo di fregare entrambi i gestori, credere che non supero una certa scuola. Ragazzi, io purtroppo ho bisogno di migliaia di giga al mese per andare avanti, perché io pubblico due video al giorno, vedo video come se non ci fossero domani. Lavoro, insomma, io vivo le mie 18 ore su internet al giorno, quindi. Comunque, comunque, detto questo, ragazzi, Leo Pogamai, loco, ci vediamo dopo oggi pomeriggio alle 14, ci sarà il secondo video. Ciao, ciao ragazzi, vi voglio bene e buona giornata. Ciao.